Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Firenze-Impruneta e San Casciano Nord in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra San Vincenzo Sud e San Vincenzo in direzione Nord. Sulla statale 62 della Cisa assenso unico alternato in entrambe le direzioni per lavori 3 km 27.400 e 27.430 tra Villafranca in Lunigiana e Pontremoli. Infine per gli aerei il volo Cityjet da Londra atteso a Firenze alle 10.15 atterrerà alle 14.37. Ripartenza delle 10.55 prevista alle 15.10. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!